Musica Bisogna innanzitutto cercare di avere continuità nei risultati valutando le prestazioni le ultime due ore della squadra alla squadra non si può dire niente sul piano del gioco perché abbiamo giocato molto bene sia con Napoli che stasera credo che nelle due partite avremo tirato una quarantina di volte in porta abbiamo sbagliato molti gol abbiamo preso tre gol uno stasera e due con Napoli evitabili bisogna migliorare l'attenzione alla fase difensiva credo che dopo come abbiamo giocato in queste due partite fare un punto in due partite credo che difficilmente potrà succedere è normale che bisogna lavorare in questo momento avere più attenzione perché in questo momento ogni errore che facciamo lo paghiamo a quello prezzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti